Sulla sanità, quello di Frattura è un fallimento tecnico e politico certificato anche dalla relazione del Tavolo Nazionale. È stato questo l'affondo dei vertici molisani del Movimento 5 Stelle. Il tempo è scaduto e non è più accettabile l'ostinazione nel voler riorganizzare la rete ospedaliera in funzione del privato. Hanno continuato. Considerato che il capitolo dedicato alla sanità riguarda quasi l'80% del bilancio regionale, hanno evidenziato i grillini, è arrivato il momento che il presidente Frattura prende atto dell'inadeguatezza delle scelte fatte in questi due anni e rassegni le dimissioni. Il Movimento 5 Stelle mette sotto accusa 10 anni di gestione della sanità che, hanno spiegato, hanno portato a una situazione impietosa con un debito che si aggira sui 428 milioni di euro. Una riorganizzazione razionale è quanto chiede Conf Professioni Molise, associazione che riunisce alcune tra le più rappresentative libere professioni. Ha detto di essere preoccupata per la mancata approvazione di un piano di rientro. Preoccupazioni che, voglio dire, sono basate sulla ventilata ipotesi di un aumento delle varie addizionali regionali e dell'IRAP. Rispetto a questo problema noi crediamo che sia necessaria un'assunzione di responsabilità individuale e collettiva per riorganizzare dalle fondamenta il nostro sistema sanitario. Per Conf Professioni il rispetto dei livelli essenziali di assistenza deve rispondere anche a dei tempi accettabili. Se non si potenzia il territorio, se non si ristruttura il territorio e non si riconvertono probabilmente alcuni ospedali che per casistica non possono garantire una qualità di prestazione come prevista dagli standard nazionali, il cittadino in prima persona paga i ritardi di questa assenza di servizi territoriali. Noi crediamo che il sistema vada riorganizzato tenendo presente anche le eccellenze che sono presenti in Regione e che svolgono un ruolo importante nel fornire prestazioni ai cittadini con una gestione assolutamente valida sia del rischio clinico che economica. Però tutto questo deve essere fatto con un chiaro rispetto dei budget in serie di programmazione, delle prestazioni che il privato può erogare a completamento della sanità pubblica.